E' nata poche ore fa la nuova giunta del comune di Montesilvano, sindaco De Martinis, in pochi giorni siete riusciti a trovare la quadra per il nuovo governo della città? Sì, come detto nei giorni scorsi c'era un vuoto da colmare perché dopo la nomina di tre nuovi assessori dovevo attribuire a tutta la giunta delle deleghe, deleghe che non ho in realtà attribuito con leggero ritardo perché vittima di pressioni partitiche o di smodate desideri da parte di qualcuno. Ma semplicemente perché ho voluto ragionare le competenze, le personalità di ognuno degli assessori per cercare di dare al territorio quello che merita. E da questo insomma è una composizione che ritengo essere molto funzionale al progetto di riqualificazione e di miglioramento della città. Sono certo che tutti gli assessori, sia quelli che già da anni lavorano con me, ma anche i nuovi daranno alla città quello che necessita e quello che merita. Un gruppo consigliare che da tempo rivendicava delle postazioni in giunta adesso vede equilibrata questa situazione e questo a livello numerico e cambia semplicemente da un punto di vista numerico, ma come dicevo prima non cambia quello che è quello che anima tutti noi, ossia la voglia di fare bene, la voglia di dare ai cittadini quello che occorre. Quindi a questo punto di vista diciamo che c'è quello che mi auguro che si possa continuare a lavorare così come è fatto in questi anni. Con il PNRR arriveranno tanti fondi anche per la città di Montesilvano? Siamo certi di poter intercettare e stiamo lavorando al fine di intercettare tutte le somme messe a disposizione e non a caso ho attribuito una delega specifica all'assessore Comardi proprio per le progettazioni e per ragionare, per lavorare in maniera specifica su questo piano che rappresenta non soltanto per tutta la nazione sicuramente ma anche per Montesilvano qualcosa di importante.